Il gruppo Mazzacorona è una cantina sociale cooperativa trentina, nata nel 1904 da un gruppo di viticoltori. Negli anni siamo cresciuti, siamo arrivati a circa 1300 soci con 2500 ettari di vigneto. La produzione di bottiglie si agila sui 45 milioni all'anno. La pompa installata in questa cantina di vinificazione è una pompa in grado di convogliare fino a 650 ettari di ora. Viene utilizzata per il travaso tra i fermentini, carico e scarico delle autocisterne, il rimontaggio del mosto ed anche la fase di taglio di vini. Inoltre vengono anche utilizzate per il pompaggio delle fecce. L'utilizzo della pompa lobby si permette di fare dei travasi dei nostri vini bianchi con uno sbattimento molto basso del prodotto, questo è molto importante dal punto di vista qualitativo, e dei travasi a lunga distanza, anche sopra i 200 metri. La pompa è completamente reversibile, grazie ai lobby rotativi di cui noi siamo stati gli inventori e abbiamo disegnato. Una pompa che è in grado di lavorare senza creare problematiche sia di pulsazioni ma anche molto stabile, e questo è fondamentale nell'utilizzo. Un utilizzo importante è sicuramente per il raffreddamento dei mosti in vendemmia. La portata costante si permette di passare con il prodotto all'interno degli scambiatori di calore e di raggiungere anche pressioni elevate. Riusciamo ad arrivare a circa 6 bar di pressione. Abbiamo sviluppato col cliente alcuni accessori come dei presostati, che hanno una visualizzazione della pressione anche negativa, e la possibilità di settare una pressione massima di funzionamento. Questa visualizzazione della pressione è digitale ed è collegata direttamente al pannello. Nel travaso dei vini bianchi è molto importante l'utilizzo di questa pompa, anche del battente di azoto, che ci permette di evitare l'uscitazione degli aromi durante il travaso. Se la pompa dovesse lavorare a secco, che può accadere, un sensore di calore rileva la temperatura in modo da non scaldare il mosto e ferma la pompa. Corpo completamente in acciaio, start e stop, pannello comandi in grado di regolare la portata. Queste due funzioni sono presenti in un telecomando, che è maneggevole, molto robusto. Possiamo installare dei connettori di qualsiasi tipo, da tipo Garolla, DIN e altri. Un giunto elastico, che ci permette di non avere rotture negli alberi. Quattro vantaggi molto importanti di questa pompa sono sicuramente il basso sbattimento del prodotto, la facile maneggevolezza, quindi il trasporto in cantina è molto semplice. Abbiamo anche la possibilità di regolare il fiuso tramite inverter. Il concetto Quick Service è un concetto sviluppato da anni dalla Fogersa, che ci permette di fare una manutenzione molto veloce e lavorando in loco direttamente in brevi tempi. Grazie! 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 Grazie!